Il mio nome è José Luis di Cesare, sono italiano-argentino, faccio questo lavoro con molta passione, ho imparato da solo a guardare un altro amico, lo faccio perché c'è il guadagno, però più che altro per la passione, perché mi piace farlo, mi piace quando la gente mi espressa che le è piaciuto lo che ho fatto, voglio dire poca parola, lo faccio volantieri per tanti motivi, la vita non è tutto il soldi, che un bambino ti dica quella parola che per lui sei un grande, che sei un mago, vuoi dire molto, diverse culture, gente dell'estero, italiano, che sono di qua, che sono di altri paesi, e quello si impara molto, la vita, quando non hai una scuola, un studio grosso, la vita della strada, diciamola, ti fa imparare moltissimo con questo lavoro, conosci molta gente che sono diversa una dall'altra, che hanno quello che le piace molto, la cultura, l'arte, ti fanno sentire che lo che stai facendo è una cosa unica, una cosa che è bella, non dai fastidio a nessuno, c'è la crisi sicuramente, vediamo il telegiornale, ascoltiamo amici, gente in giro che è, la crisi c'è, non possiamo dire che non c'è la crisi, però nel arte guarda che sembra che quello che le piace è l'arte, per loro non ci sono la crisi, perché preferiscono perdersi che non comprare un'altra cosa, però il quadro è prima di tutti, per quello della crisi io non l'ho sentito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.